Torna l'allarme Covid alla RSA di Montevarchi dove è stato registrato un nuovo caso. Si tratta di un'anziana ospite della struttura di 99 anni, risultata di nuovo positiva al tampone dopo essere guarita a fine maggio. Per una banale caduta è stata portata all'ospedale e sottoposta nuovamente al tampone è risultata positiva. Quindi io ho chiesto che venga tamponato nuovamente tutti gli ospiti dell'RSA ma anche il personale perché le stade sono due. O il Covid è entrato dall'esterno, naturalmente legato al personale dell'USCA che è lì che sta portando avanti la gestione da diversi mesi oppure il test andrà ripetuto perché nel caso siano tutti negativi potrebbe essere un falso positivo. Ne sono successi molti in questi mesi di risposte a test che possono essere risultati non corretti. Quindi ci auguriamo che sia questa la causa e che si possa quindi riprendere da subito il progetto che avevamo già deciso di mettere in campo che era quello di far tornare tutti i nostri ospiti ad una gestione normale, ad una vita normale. L'anziana attualmente è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Per il momento l'azienda sanitaria ha sospeso il ritiro del proprio personale dalla struttura che era previsto per il 22 giugno. Sulla casa di riposo valdarnese sono in corso indagini per chiarire la morte di 18 ospiti. Il fascicolo aperto in procura contiene anche il caso analogo della RSA di Buccine. L'inchiesta al momento contro i gnoti ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni e violazioni alle norme sulla sicurezza nel lavoro. È giusto che venga fatta chiarezza soprattutto per i familiari e per tutte queste vittime innocenti che purtroppo hanno subito questo fenomeno che è stato destabilizzante per tutto il mondo come vediamo.